Benvenuti nel mondo di Zenith. La storia di George Favre Giacco è quella di un giovane visionario che nel lontano 1860 sognava di creare l'orologio più preciso al mondo. E fu grazie alla sua passione che nacque Zenith, collocando Giacco tra i pionieri dell'orologeria svizzera. Dalla sua fondazione, Zenith ha sviluppato la sua presenza in tutto il mondo, conquistando il mercato russo, europeo, americano e asiatico. E grazie alla sua ineguagliabile qualità, il brand è diventato un nome conosciuto da tutti, tanto che persino il Mahatma Gandhi in persona ricevette in dono un orologio da tasca Zenith. Quel modello in argento divenne uno dei pochi oggetti materiali posseduti da Gandhi, accompagnandolo in ogni momento della sua vita quotidiana. Tra i modelli più iconici del marchio troviamo il primero. Lanciato nel 1969, questo modello ha cambiato il mondo dell'orologeria grazie al primo movimento cronografico automatico al mondo, capace di misurare il tempo fino a un decimo di secondo. Questa incredibile precisione è dovuta alla sua alta frequenza di 36.000 oscillazioni all'ora, un traguardo mai raggiunto prima. Nel 2021, Zenith ha lanciato il Crono Master Sport, stabilendo ancora una volta uno standard di riferimento per i cronografi sportivi automatici. Dotato di un calibro e il primero di ultima generazione, oltre che di una maggiore autonomia, il Crono Master Sport è stato nominato vincitore del prestigioso premio, cronografo, al Grand Prix d'Orlogerie de Genève 2021. La storia di Zenith è quella di un'azienda che ha saputo coniugare la tradizione artigianale svizzera con l'innovazione tecnologica, conquistando il mondo grazie alla sua ineguagliabile qualità e al suo stile senza tempo.